Il Vescovo di Comoscar Cantoni ha celebrato oggi la festa dell'apparizione a Tirano, dalla Madonna patrona della Valtellina una protezione speciale per tutti noi. Il grazie al rettore Don Giampiero che lascia il santuario dopo sette anni. Denunciato per ricettazione 27enne di Ardenno che su un sito di vendite online aveva postato immagini di merce rubata in un'abitazione del paese. I carabinieri le mostrano al proprietario che riconosce il suo antico orologio da parete. Con una mostra e una giornata di studi la Banca Popolare di Sondrio celebra i suoi 150 anni e rende omaggio a Dante Alighieri, in città i massimi esperti del sommo poeta. La cultura, dice BPS, eleva decisiva per la ripartenza del paese. Regole comuni per l'utilizzo delle motoslitte sul territorio provinciale. In vista della stagione invernale, il prefetto Pasquariello costituisce due gruppi di lavoro con l'obiettivo di fissare un decalogo della sicurezza valido per tutti. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. Per la comunità dei credenti di Valtellina e Valchiavenna è sicuramente l'evento devozionale più importante dell'anno. Parliamo della festa dell'apparizione che si è celebrata oggi a Tirano con una edizione speciale almeno per due motivi. Intanto il 75esimo di proclamazione della Madonna di Tirano, patrona della Valtellina, e il saluto al rettore Don Giampiero Franzi chiamato a nuovo incarico. Dal Covid una lezione, dice il Vescovo, che si cammina insieme e si è responsabili gli uni degli altri. Essere cristiani significa essere testimoni della resurrezione di Gesù. Sul Sagrato della Basilica di Tirano, il Vescovo di Como Oscar Cantoni presiede la messa solenne della festa dell'apparizione con un'omelia che verte tutta sul messaggio di Maria, colei che ci invita a credere alla fedeltà dell'amore di Gesù e alla potenza della sua grazia. L'omaggio alla Madonna nell'anno che celebra il 75esimo della proclamazione della Vergine a celeste patrona della Valtellina. Patrona della Valtellina vuol dire che ella esercita su di noi una protezione speciale. La Madonna ci accompagna nella nostra vita e ci sostiene nei momenti tristi, bui, come nei momenti lieti. Ci consola, ci dà la forza di vivere il Vangelo qualunque sia la nostra situazione di vita. Patrona della Valtellina e la Madonna non ha mancato mai di essere fedele a questo titolo, nel senso che è sempre venuto in aiuto alle difficoltà di tutta la nostra gente. Per questo noi le siamo vicini, la ringraziamo di cuore e le vogliamo bene. L'anno scorso erano ancora fresche le ferite della grande tragedia del Covid, quest'anno c'è un segno di speranza in più. Speriamo che tutti insieme ne usciamo non solo in columi, ma perché abbiamo capito delle grandi lezioni di vita, ossia che si cammina insieme e siamo responsabili gli uni degli altri. Eccellenza breve, il nuovo Rettore. Il nuovo Rettore comparirà quando è ora. Per ora adesso salutiamo e ringraziamo quelli che escono. E proprio ai sacerdoti dell'Opera Don Folci che hanno retto il Santuario tiranese in questi anni e ora sono chiamati ad un nuovo progetto pastorale in Valtellina, va il ringraziamento del Vescovo che ricorda Don Marco Giannoli portato via dal Covid l'anno scorso, saluta il canonico Don Ambrogio Marinoni e soprattutto il Rettore uscente Don Giampiero Franzi, designato parroco di Berbenno. Un primo grazie sincero, lo rivolgo a Don Giampiero Franzi. che ha coordinato come Rettore le attività del Santuario, accogliendo i numerosi pellegrini e diversi pellegrinaggi che almeno nel tempo prima della pandemia si sono qui succeduti. In questi anni, sotto la guida di Don Giampiero, si sono sviluppati nuovi progetti in piena sintonia con l'amministrazione comunale. Originario di Buglio in Monte, ma tanti anni di sacerdozio trascorsi lontano, Don Giampiero Franzi nel 2014 era tornato in Valtellina, nominato dall'allora Vescovo Diego Coletti, Rettore del Santuario della Madonna di Tirano. In carico che oggi lascia, con parole di gratitudine per quanti religiosi e laici, hanno condiviso con lui questo cammino. Ha voluto congedarsi da Tirano distribuendo un opuscolo, l'alba che verrà nel quale ha raccolto i pensieri che l'hanno accompagnato in quella che definisce la lunga e buia notte della lotta contro il nemico invisibile, il coronavirus. Una lotta combattuta, scrive nell'introduzione, con le armi della scienza e della fede. Don Giampiero Franzi nell'autunno 2014 era succeduto a Donaldo Passerini come Rettore del Santuario, il luogo di culto più importante della Valtellina. Oggi cambia in carico, chiamato dal Vescovo Oscar, a guidare e servire la comunità pastorale di Berbenno. Per lui è il momento dei saluti e ringraziamenti affidati ad uno scritto pubblicato in chiusura di questo libretto. Per me è stata una grande benedizione vivere sotto lo sguardo tenero e materno della Madonna, accogliere tutti senza giudicare, condividere senza imporre. Questo il modo con cui, dice, mi sono sforzato di seminare il Vangelo. Don Giampiero saluta e ricorda i confratelli del Santuario, i sacerdoti della parrocchia di San Martino, le istituzioni civili della comunità tiranese. Ringrazio Dio scrive di aver conosciuto tante persone che, come me, credono fortemente nella legittimità, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità e delle differenze. Persone protese ad edificare un'umanità che rifiuta ogni emarginazione, menzogna, prevaricazione e ingiustizia. Un'umanità che ha come bandiera la fratellanza. Tra queste Franzi saluta il sindaco Franco Spada e l'amministrazione comunale per la sincera e leale collaborazione. Un abbraccio viene rivolto agli ammalati e alle persone semplici che nel santuario accorrono per ricevere il balsamo della consolazione. Un saluto rivolto a tutti con il cuore colmo di gratitudine per il tanto bene ricevuto in sintonia con le parole bene avrai che la Madonna disse nell'apparizione al beato Mario Omodei nel 1504. Ritornerò come pellegrino, conclude Don Franzi, percorrendo a tappe con voi e gli amici dell'associazione Cammicando il neonato e inarrestabile Cammino Mariano delle Alpi. Ora la cronaca ha denunciato a piede libero un 27enne di Ardenno ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Le indagini erano iniziate lo scorso 25 agosto quando ai carabinieri della stazione di Ardenno era stato denunciato un furto avvenuto all'interno di un'abitazione del paese. La vittima aveva indicato in modo preciso e meticoloso tutti gli oggetti asportati, tra cui un orologio da muro, un compressore, un tagliaerba ed un televisore. Alcuni giorni dopo, su un sito di vendite online, è stata pubblicata l'inserzione di un antico orologio da muro che ha insospettito i militari dell'arma. La foto è stata mostrata alla persona derubata che con certezza ha riconosciuto che l'orologio era quello scomparso. Gli accertamenti hanno permesso così di identificare il venditore, un uomo di 27 anni residente in paese, con precedenti alle spalle. Autorizzati dalla procura, i carabinieri così sono andati a casa del sospettato dove hanno trovato e sequestrato quasi tutta la refurtiva del valore complessivo di circa 3.000 euro che sarà restituita al legittimo proprietario. Il 27enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Tra poche ore il nostro capoluogo sarà teatro delle celebrazioni per i 150 anni della Banca Popolare di Sondrio. Protagonista la cultura, giudicata elemento chiave per la ripartenza del nostro paese. Una preziosa mostra e due importanti convegni renderanno omaggio a Dante Alighieri. Celebrare i 150 anni di fondazione della Banca e rendere omaggio a Dante Alighieri nel settecentesimo della morte. Eventi speciali, quelli che la Banca Popolare di Sondrio ha ideato per i due importanti anniversari. Dal primo al 23 ottobre si potrà visitare la mostra Dante Qui all'estita nell'ottocentesco Palazzo Lambertenghi in Piazza Garibaldi che rientra nel programma della ventesima edizione di Invito a Palazzo, iniziativa ideata da Abi. Il primo ottobre sarà il Teatro Sociale di Sondrio ad accogliere l'evento Dante di Valtellina convegno organizzato dalla Banca in collaborazione con l'Ufficio Scolastico di Sondrio patrocinato dall'Accademia della Crusca e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Si articolerà in due momenti diversi coordinati dal professor Francesco Sabatini presidente e merito dell'Accademia della Crusca. Al mattino l'incontro con gli studenti delle quinte classi superiori tutto incentrato sull'attualità del poema dantesco e sulla straordinaria modernità del suo linguaggio che avrà la voce di Lucilla Giagnoni interprete di due dei più noti episodi dell'Inferno dantesco quello di Paolo e Francesca e quello dell'ultimo viaggio di Ulisse. A dialogare con gli studenti saranno Enrico Castelli Gattinara brillante saggista Michele Prandi che entrerà nel vivo della lingua dantesca e Anna Bordoni di Trapani. Al pomeriggio dalle 15.15 il convegno sugli universi di Dante che si aprirà con gli interventi di Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della Crusca e di Massimo Brai direttore generale dell'Istituto Enciclopedia Italiana. I primi 36 versi della Divina Commedia interpretati da Cristian Poggioni prima che Carlo Osso l'autorevole presente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche ci introduca all'universo umano dei personaggi che popolano il poema. Sarà quindi la volta di Francesco Sabatini a mostrarci la grande operazione linguistica realizzata da Dante con la commedia Il volgare d'altronde come mostrerà il noto musicologo Sandro Cappelletto e anche la lingua diffusa dalla musica del tempo. Il pensiero di Dante analizzato da Alessandro Ghisalberti storico della filosofia medievale. Dante e le stelle il tema affrontato dallo studioso di astrofisica Attilio Ferrari L'ultimo relatore lo storico dell'arte Stefano Zuffi si soffermerà invece su Dante e le arti figurative. L'evento si potrà seguire in diretta streaming su www.popso.it slash Dante di Valtellina L'utilizzo delle motoslitte in sicurezza è il tema affrontato nel vertice convocato dal prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello una questione che era stata esaminata a febbraio dopo il tragico incidente accaduto sul Mortirolo che costò la vita ad un giovane di 26 anni nel corso della riunione svoltasi ieri in videoconferenza sono stati costituiti due appositi gruppi di lavoro il primo sotto la guida dell'ufficio scolastico territoriale si occuperà di attivare apposite iniziative di educazione civica nelle scuole il secondo sotto la guida della prefettura approfondirà gli aspetti tecnico-normativi di regolamentazione sul corretto utilizzo delle motoslitte e individuerà e proporrà tutte le iniziative per raccogliere le riflessioni e le sollecitazioni di chi vive in montagna verrà predisposto un modello tipo di regolamento comunale da proporre a tutti i comuni della provincia di Sondrio la prima riunione è in programma il 4 ottobre i risultati dei lavori poi saranno inoltrati dal prefetto anche al governo e a regione Lombardia celebrata anche a Sondrio oggi la ricorrenza di San Michele Arcangelo patrono della polizia di stato la funzione incollegiata è stata ufficiata dall'arciprete Don Cristian Bricola alla presenza di tutte le massime autorità dal prefetto naturalmente al questore dal presidente della provincia al sindaco del capoluogo al presidente del tribunale hanno partecipato anche le massime autorità e le rappresentanze dell'associazione nazionale polizia di stato di Sondrio e organizzazioni sindacali le proposte per una nuova governance per le province interamente montane sono state al centro del primo appuntamento con la festa dell'unità promossa dalla federazione sondriese del partito democratico ampia la partecipazione di pubblico sabato prossimo si replica con un secondo appuntamento sono veramente felice che si riparta a Sondrio in provincia nella Valtellina sono particolarmente contento che prendiate anche il filo dal punto di vista dei contenuti del lavoro che abbiamo fatto sul tema della montagna così il segretario nazionale del PD Enrico Letta ha salutato la festa provinciale dell'unità tornata in Valtellina dopo cinque anni e promossa dalla federazione sondriese del partito anche per sabato 2 ottobre nel primo appuntamento al centro del dibattito sono state le proposte per una nuova governance per le province interamente montane rimettere al centro il tema delle aree interne delle zone di montagna è un interesse europeo e anche in Italia noi dobbiamo fare questo sforzo non può esistere una montagna disabitata il tema dello spopolamento è il tema centrale per fare questo dobbiamo mettere in fila anche provvedimenti giuridico e legislativi la mia proposta di legge punta a un restyling della legge del Rio per rimettere al centro il fatto di avere una governance più forte e soprattutto riuscire a fare una sintesi di area vasta rispetto ai servizi e come mantenerli sul territorio partiamo dalle tre province montane per dire che tutto il territorio dell'area interna italiano deve essere al centro di nuove politiche è importante parlare di questa riforma io con i presidenti in particolare della provincia di Belluno e quello di Verbania che abbiamo le tre province interamente montane in Italia ci stiamo lavorando da tempo è importante che le province riprendano quell'autorevolezza che avevano prima di questa riforma e a maggior ragione nella provincia di Sondrio visto che sarà teatro delle Olimpiadi nel 2026 questa autorevolezza sarebbe fondamentale oggi abbiamo sostanzialmente le province che ancora esistono perché il referendum costituzionale che voleva abrogarle quello di Renzi è stato bocciato dai cittadini ma di fatto questi enti sono impossibilitati a funzionare dobbiamo assolutamente tornare all'elezione diretta del presidente della provincia io dico della giunta quel che conta è che ci sia un ente in grado di funzionare soprattutto qui in provincia di Sondrio dove la provincia è l'organo di riferimento per tutto il territorio io sono stato amministratore provinciale e so bene qual è il compito strategico che la provincia ha svolto nella realizzazione di infrastrutture che altrimenti oggi non avremmo ed eccoci ora alla pagina dedicata alle elezioni amministrative l'unico comune del mandamento di Tirano chiamato al voto domenica e lunedì per eleggere il sindaco è Villa di Tirano una sola lista in corsa guidata dal primo cittadino uscente Franco Marantelli Colombin che dopo le frazioni di Motta e Stazzona stasera alle 20.30 conclude il programma degli incontri pubblici all'auditorium 53 anni imprenditore agricolo sindaco uscente di Villa di Tirano Franco Marantelli Colombin è anche l'unico candidato sindaco per il prossimo quinquennio alla guida della lista Stella Alpina le motivazioni sono le opere che sono rimaste incomplete soprattutto dopo con la covid che si sono rallentate sto parlando in primis dei sottopassaggi e sottopassaggio alla stazione e varie chiusure degli altri passaggi a livello con la creazione di strade alternative e poi per controcambiare quello che i cittadini mi hanno dato perché in questi cinque anni mi hanno dato tanto Qual è la priorità oggi per la comunità di Villa di Tirano? La priorità è la sicurezza in primis adesso aspetteremo che arriva la tangenziale di Tirano e poi abbiamo già in fase diciamo conclusiva con Regione Lombardia con le ferrovie con la provincia la chiusura di ulteriori passaggi a livello con la creazione di una strada Carraio che praticamente raggiunge l'attraversamento sia statale e dalla ferrovia raggiungere gli altri luoghi diciamo da Villa, Capoluogo Stazona e Motta le altre frazioni Pronto il progetto di fattibilità per un'opera da 6 milioni e 800 mila euro che razionalizzerebbe radicalmente i collegamenti fra le due parti del territorio comunale di qua e di là della ferrovia riducendo dice Marantelli da 11 a 2 i passaggi a livello Essere il candidato unico è un'insidia? Ma diciamo che avrei preferito avere qualcuno di un'altra lista perché era anche penso stimolante anche per i prossimi cinque anni Su un corpo elettorale di 2400 aventi diritto al voto per non correre rischi di quorum l'obiettivo di Marantelli è quota mille votanti quanto alla lista dei candidati consiglieri coniuga la continuità con il rinnovamento Ci sono quattro consiglieri uscenti e poi sei giovani sei giovani che ognuno ha la sua specificità nel senso ruoli diversi e con idee nuove che sicuramente faranno bene per i prossimi cinque anni Ed è Diego Rava primo cittadino uscente l'unico candidato alla carica di sindaco per il comune di Rasura in Valgerola a sostenerlo è la lista civica Rasura per Rasura formata proprio dal gruppo che già oggi siede in consiglio comunale Rava ci ha illustrato il progetto per il paese C'è una sola lista a correre per le elezioni amministrative del comune di Rasura la civica Rasura per Rasura guidata dal sindaco uscente Diego Rava 42 anni primo cittadino dal 2016 tra le priorità del gruppo le tematiche sociali la manutenzione del territorio e una viabilità sicura di collegamento con il fondo valle Io mi ricandido per proseguire nell'amministrazione comunale di Rasura insieme al mio gruppo che mi sostiene ma sostenuto in questi cinque anni per dare seguito ai progetti che sono partiti e che partiranno nei prossimi mesi per la manutenzione del territorio del centro abitato riguardo anche in particolare alla sociale visto il momento che stiamo affrontando sicuramente anche con un occhio di riguardo appunto al sociale all'ambiente della scuola e la manutenzione sicuramente ordinaria avrà un accento importante uno degli aspetti che più ci premono è la sicurezza sulla strada provinciale questi cinque anni abbiamo già provveduto a fare due passarelle pedonali nei tratti diciamo più pericolosi una delle priorità sarà anche quella di cercare di rallentare la velocità sulla strada una sfida dall'amministrazione comunale è sicuramente la donazione dell'ex albergo qui ci sono sono arrivati dei contributi che riguardano la progettazione nei prossimi mesi si procederà appunto alla progettazione nell'aspetto esperiore non ci saranno modifiche poiché l'edificio è totalmente vincolato si pensa di fare un'attività turistica ma come può essere una pizzeria visto che in tutta la valle manca poi nei piani superiore stiamo un attimo valutando quali siano le possibilità appunto per portare avanti questo progetto siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Unica TV sui canali 12 e 193 del Digitale Terrestre ovunque voi siate quando volete ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube Facebook e Instagram e sul nostro portale www.teleunica.com è tutto grazie per averci seguito buona serata Grazie a tutti